Il paziente vascolare e la trombosi, anticoagulanti orali diretti dalla ricerca alla pratica clinica. Questo è il titolo del convegno che si è svolto ieri al Policlinico di Bari. I dettagli nelle interviste. Parliamo prevalentemente di una terapia che è l'anticoagulazione. L'anticoagulazione accompagna il paziente vascolare, il paziente che ha il rischio di ictus cerebrale, il paziente con cardiopatia ischemica ed embolia polmonare. Anticoagulazione che per anni abbiamo fatto con pochissimi farmaci, anche con difficoltà nella gestione di questi farmaci che però ultimamente possiamo gestire in maniera diversa con farmaci più innovativi, farmaci di facile gestione ma con grandi prestazioni e con grande sicurezza. Siamo di fronte ad una rivoluzione nel trattamento della coagulazione. Io di professione faccio il nefrologo e quindi ho coperto con il mio intervento la parte nefrologica. Parte nefrologica che merita un approccio terapeutico diverso perché riducendosi la funzionalità renale abbiamo la necessità di adattare il dosaggio di questi nuovi farmaci. Sono dei farmaci che hanno migliorato notevolmente la compliance del paziente perché evitano il classico ricorso alla scheda settimanale del controllo dei parametri ematochimici. Per cui sicuramente un aggiornamento terapeutico per i nostri pazienti che porterà anche grandi vantaggi dal punto di vista degli outcome clinici.